Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, corgasmi che sono qui a portarvi il terzo episodio dei Potential Transfer di gennaio. Io sono veramente contento che questa serie vi stia piacendo, quindi vi invito sempre a lasciare un bel mi piace. Se arriviamo a 400 mi piace uscirà un nuovo video. Partiamo subito senza perderci in chiacchiere dei tre giocatori di oggi. Stiamo parlando di tre giocatori molto importanti, due legati alla Serie A e uno invece più estero. Quindi probabilmente farò così d'ora in poi. Parlerò un po' di Serie A, ma comunque dividerò sempre e farò anche qualcosa di più estero. Quindi partiamo con il primo giocatore che forse è la notizia più clamorosa che ci giunge alle nostre orecchie di un possibile approdo di Shaqiri dal Bayern Monaco in Italia. Si parla di un possibile approdo appunto dello Svizzero all'Inter di Mancini. Si sa che da quello che si evince comunque dall'ultima notizia di calcio mercato che i contatti dell'Inter verso Shaqiri sono stati apprezzati e soddisfacenti. E quindi la destinazione allo Svizzero piace e quindi sarebbe un colpo veramente importante e forse il migliore negli ultimi 3-4 anni dell'Inter. Bisogna capire intanto qual è la valutazione del Bayern che comunque dovrebbe valutarlo circa 15-18 milioni. Come si comporterà l'Inter se avrà la disponibilità economica per sostenere questo grandissimo colpo di mercato e come si comporteranno poi infine le concorrenti dell'Inter. Sappiamo che Shaqiri ha molte pretendenti in Europa come per esempio l'Everton, molte squadre comunque italiane, inglesi come appunto l'Everton come ho detto prima ma soprattutto il Liverpool. Secondo alcune fonti il Liverpool pare che abbia già offerto circa 18 milioni. Quindi bisogna capire poi anche come si muoverà il Liverpool e a chi lo cedrà. Dipenderà poi comunque anche la volontà del giocatore. Il secondo giocatore di oggi invece è un giocatore che era legato in passato alla Serie A e potrebbe esserlo anche in futuro. Stiamo parlando di Wesley Snyder, ex Inter, che potrebbe trasferirsi in Italia. Sappiamo che una squadra in particolare ha bisogno di un trequartista delle sue qualità e cioè la Juventus. Quindi Snyder potrebbe trasferirsi alla Juventus. Però abbiamo due tipi di difficoltà. La prima sul piano fisico. Snyder nell'ultima partita contro il Besiktas forse non mi ricordo dovrebbe aver subito un infortunio. Quindi bisogna anche capire quali sono le sue condizioni fisiche e se ha effettivamente questo infortunio per quanto lo avrà. E poi soprattutto il fattore legato al trasferimento proprio in ambito economico. Bisogna capire intanto qual è lo stipendio che prende Snyder al Galatasaray e se la Juve è disposta a pagargli lo stesso stipendio o eventualmente abbassarlo di un po' e se Snyder è disposto ad abbassarsi il suo ingaggio. Ma soprattutto quello che ho letto nelle ultime ore che potrebbe esserci una clausola rescissoria data appunto dal Galatasaray a Snyder di circa 18-20 milioni e pagare una cifra così alta secondo me per un giocatore molto forte certo come Snyder ma della sua età non è più un giovincello quindi appunto non è più giovanissimo bisogna vedere se è la cosa più giusta da fare questa. Ovviamente vedremo tutto ciò in futuro quindi aggiornamento nelle prossime ore, nei prossimi giorni magari ne riparleremo in un secondo episodio. Mentre per il terzo giocatore di oggi parliamo appunto di estero spostiamoci in Inghilterra dove il Manchester City o meglio Pellegrini secondo il Daily Star di stamattina avrebbe chiesto alla dirigenza di comprargli Draxler dallo Schalke 04 quindi Draxler potrebbe trasferirsi al Manchester City su richiesta appunto dell'allenatore cileno del Manchester City si tratta di un colpo secondo me importantissimo anche in chiave futuro perché sappiamo che Draxler ha 21 anni ed è uno dei calciatori più promettenti d'Europa se non il più promettente in Germania e quindi bisogna ovviamente capire se l'operazione andrà a buon fine e se troverà spazio in questa stagione Draxler nel Manchester City basti vedere che giocatori ha davanti e avrebbe davanti anzi e quanto è valutato qual è il valore economico del giocatore addirittura si parla di una cifra intorno ai 30 milioni di euro 25 milioni di sterline sappiamo che comunque il Manchester City non ha problemi economici vista la proprietà comunque bisogna vedere poi se lo Schalke effettivamente lo cederà a gennaio anche se comunque in casa ha già un sostituto molto molto valido come Maximilian Mayer comunque ragazzi per oggi l'episodio finisce qui spero vi sia piaciuto come sempre io vi invito a lasciare un bel mi piace a 400 mi piace come ho detto prima a uscire al nuovo video vi invito a scrivermi come sempre nei commenti qualche altro colpo di mercato che avete sentito qualche rumor di trasferimenti oppure di giocatori che volete che io discuta nel prossimo video come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace anche se l'ho detto prima vabbè lo ridiciamo e a iscrivervi al mio canale pagina Facebook, Twitter, Instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione ci vediamo al prossimo video bella raga grazie a tutti